Buongiorno, oggi vi parlerò del workshop Delivering Project Results. Si tratta di un corso della durata di un giorno, ora disponibile anche in italiano. L'obiettivo di questo workshop è avvicinare i project manager al change management e dare loro gli strumenti base per poter comprendere l'importanza della componente umana del cambiamento, legata alla adozione e all'utilizzo di una soluzione, sia essa un nuovo processo, software o struttura organizzativa. Il workshop coniuga il linguaggio del project management a quello del change management. Infatti parliamo di change management in termini di deliverable, milestone, obiettivi. I partecipanti al corso ottengono l'accesso al portale di ProSci e ad una serie di materiali aggiuntivi rispetto a quelli che vengono utilizzati durante il workshop per poter approfondire i temi più importanti legati all'integrazione del project management e del change management. Per ulteriori informazioni sul workshop Delivering Project Results, cliccate sul link che trovate nella description box. riguardo, e poi ci sono un'attività, e poi ci sono dei nuovi componenti, Grazie.